Il cuore mi pulsa come questa chitarra meravigliosa, come questi fiati così strong mi verrebbe da aggiungere in questa Spaghetti Jive dei Recchiabilli, insomma che danno il titolo anche al disco uscito da pochissimi giorni, il 7 marzo 2024 ma intanto il cuore mi batte a mille anche perché insomma sono felice di dare il benvenuto ad almeno due pagine al giorno al meraviglioso Dario Mattoni in collegamento con noi, ciao Dario Allo, allo, io sono felice di vedervi Ciao Dario, intanto ovviamente grazie per aver accettato il nostro invito a raccontare dalla profonda Puglia questo disco che insomma che è certamente radicato nella Puglia ma che comunque suona internazionale da tutti i punti di vista perché insomma stiamo parlando di Spaghetti Jive dei Recchiabilli uscito, ripeto, il 7 marzo e che per ZDB se non sbaglio, poi tu ci dirai meglio le cose come stanno ma che in realtà viene suonato da Recchiabilli che, come dire, inaugura anche una nuova etichetta diciamo di genere musicale se vogliamo ovviamente questa è una band, forse una delle poche, che si definisce Swing Punk Orchestra intanto Dario Mattoni, grazie ancora per essere qui con noi latitudini completamente differenti dalle tue ma insomma siamo qui, siamo nel profondo Piemonte ma con affacci anche sulla Liguria per cui Swing Punk in che senso Dario Mattoni? Swing Punk nel senso che effettivamente è quello che facciamo quello che è uscito mettendo su un'orchestra un po' più grande diciamo, per passami il termine, una big band con la sezione Fiati come l'hai sentita, come ci stiamo lavorando da un paio d'anni e però, fermo restando che partiamo da Roccapilli quello è il genere, lo si intuisce anche dal nome della band c'è una bella matrice punk nell'attitudine, nello stile e anche nel sound quindi ci sembrava proprio la denominazione più corretta ma infatti nelle note che accompagnano il disco si parla di diversi generi che si, in realtà, che si rincorrono tra di loro lo scriveva anche per esempio la Gazzetta del Mezzogiorno qualche giorno fa una fusione ardita di generi che spaziano dallo swing a Roccapilli il tutto condito da una generosa dose di ironia e un irresistibile sapore mediterraneo perché l'ironia? Perché in realtà voglio ovviamente dire ai nostri cari ascoltatori e spettatori che ci guardano anche sul Digitale Terrestre ma anche in streaming su rbe.it la cifra dell'ironia, come dire, è uno degli ingredienti più potenti diciamo dalla proposta musicale dei Re Chiabilli e che insomma ci racconta di un sound che vuole raccontare e lo fa in maniera brillantissima la realtà che gli circonda però in maniera sempre molto ironica perché, questo me lo consentirai Dario Mattoni ci sono, come dire, anche dei padri nobili che ancora una volta entrano dentro, come dire, la tua scrittura e dentro la musica dei Re Chiabilli perché a parte, diciamo, uno dei padri nobili che è Brian Setzer di cui, insomma, tu parli anche, racconti anche di discografie come dire, spolpate all'osso ma c'è citato anche in un paio di testi, di canzoni quello che è stato, diciamo, davvero mi viene da dire il grande padre nobile dei Re Chiabilli tuoi in generale che è Guy Portoghese che è ancora presentissimo dentro la tua scrittura e dentro il sound, dentro la materia calda del suono dei Re Chiabilli, no Dario? Certo, certo, Francesco allora, per quanto riguarda la questione dell'ironia io sono d'accordo che ironico, innanzitutto, essere ironico è fondamentale, secondo me, per il genere perché ci viene spontaneo perché se abbiamo abbracciato questo genere è perché ci piace questo tipo di scrittura sicuramente ironica non è introversa quella del Roccabilli anzi, è molto, come possiamo dire, esagera piace anche esagerare, esplicita e quindi sì, l'abbiamo abbracciato e poi l'ironia in questo periodo storico serve tantissimo ma l'ironia non è sinonimo di stupidità assoluto e tra certe volte è una maniera di riuscire a scrivere delle cose trovando uno strumento che faccia ridere ma riflettere per esempio io sono un grande appassionato di Checo Zalone che ha fregato tutti nel senso che per tanto tempo io ti faccio esempio di mio padre ci ha messo un po' mio padre, che lo ritengo una persona estremamente intelligente ci ha messo un po' per capire che quello era un personaggio e che non era lui così perché si era calato così bene nel personaggio ora, se noi guardiamo tutti i suoi film lui ci fa riflettere perché ovviamente esagera degli stereotipi è quello un pochino che abbiamo voluto fare in questo disco cioè abbiamo preso degli stereotipi delle cose che ci sono accadute delle cose che ci fanno pensare dei personaggi importanti tipo Guy e abbiamo tante volte mi sono ispirato a Chiosso con Buscaglione visto che sei in Piemonte anche perché ovviamente è un'altra fortissima fonte di sciolazione per noi però anche lì Buscaglione cosa faceva? Esasperato la figura dell'italo americano perché eravamo appena stati liberati dagli americani e quindi eravamo circondati respiravamo America mangiavamo America e quindi ha fatto il gangster esagerato perché l'esagerazione fa ridere invece la presa in giro non fa ridere mi ha visto hanno cercato di esagerare degli stereotipi e certe volte magari si esagerano da soli questi stereotipi assolutamente sì a volte poi è anche vero che diciamo la realtà ci sorpassa sempre da destra mi viene da aggiungere però come scrivi in Dago se il rock and roll non decelera mai è una cosa seria è quello che mi piace come l'amico Guy scrivi tu insomma è questo questo jive presente io sono andato anche a documentarmi perché non non essendo esperto diciamo c'è questo avete come dire recuperato una tradizione che arriva in realtà dal secolo scorso che la danza il jive in quattro quarti in Nord America inaugurata da Cab Calloway tra l'altro negli anni 30 e che voi come dire diciamo al jive mettete consentimi la come dire l'affermazione mettete il turbo al jive diciamo perché tra la tua chitarra le vostre chitarre e poi anche la sezione dei fiati insomma date un'accelerazione a questo genere che porta assolutamente a muovere diciamo tutto quello che che abbiamo perché i vostri set tra l'altro parleremo tra poco anche del tour i set live dei Recchiabilli sono dei set esplosivi per cui come dire l'energia a pacchi è ciò che continua a confermare la vostra cifra stilistica come Recchiabilli Dario sì esattamente la questione del jive è quella abbiamo cercato in questo disco di essere più coerenti possibili per quanto riguarda il sound mi spiego meglio siccome la sezione fiati chiama lo swing il terzinato è sempre su quattro quarti siamo però c'è un terzinato allora il jive è il vestito più adatto per questo tipo di ritmica per questo tipo di scrittura hai citato Cap Carlo ovviamente ti dico anche lui prima ti dico anche Louis Jordan insomma tutti i padri di questo genere e poi insomma negli anni 90 è stato rivisitato dalla Brian Setzer Orchestra la quale ovviamente ci ispiriamo da Rockland Review da Cherry Pop in Deadies ecco di Cherry Pop in Deadies ci piace un po' quella vena punk che hanno loro molto spiccata quindi che cosa abbiamo fatto abbiamo fatto una versione nostra cercando di non perderci troppo tra i ritmi e rimanere più o meno sempre sul gile tranne un brano che va in quattro quarti un even hate diremmo che è un po' più sixties come suono però abbiamo cercato appunto di rimanere sempre su quello su quello swing il contrabbasso sleppato ricorda il rockabili la chitarra con quei suoni pure poi ci abbiamo messo la scrittura nostra originale che ci fa molto piacere insomma sta avendo un ottimo riscontro ospiti importanti Cesco Degli Aprella Class Davide Cedia Checco Fornarelli Maglio Maresca insomma tutta gente che potesse dare un apporto ancora più fresco a questo sound e poi appunto tipo la frase che dicevi prima che hai citato quello che ci piace come un amico guy non è mia in realtà è di di Tupi DJ che ha partecipato proprio sulla title track e ha scritto quel rap che fa sul sul brano e sì quindi abbiamo voluto fare una versione 2024 del jive fatto da noi interpretato da noi allora ti piace diciamo la versione del jive col turbo insomma e piaceva allora intanto col turbo sta passando anche il tempo per cui dicevamo del disco che è pubblicato da ZDB con ovviamente featuring raccontati da Dario Mattoni poco fa voglio ricordare la line up di questa meravigliosa band Dario Mattoni Cristian Fiore Lidia Bitetti Riccardo Fortunato Donny Balice Riccardo Latore Antonio Fallacara Gianluca Balzano 40 David Campanella per arrivare però ad un ad un tour perché si sta componendo diciamo un calendario diciamo molto sostanzioso mi viene da aggiungere che parte dopo domani diciamo alle porte di Bari a Palo del Colle da Rigenera e poi ancora Roma Bologna Parma e poi anche all'estero Tirolo ancora in Germania diverse date Furt, Stranswood Neustelitz Wolfsburg e poi Manchester e poi chi lo sa Glanstonbury non si sa Kaliningrad Theater addirittura ad agosto e poi tornate a Magdeburgo in Germania con un calendario in continuo aggiornamento insomma vi aspettano tantissimi chilometri ma anche dei palchi splendidi Dario Sì, sì, sì ti dico la verità Francesco noi non vediamo l'ora di partire siamo veramente emozionati per il concerto di dopo domani a Palo del Colle a Rigenera che darà il via a questo tour con le date che hai citato e proprio stamattina ho avuto altri aggiornamenti dal management e stanno arrivando altre date sempre all'estero e qualcosa anche in Italia quindi insomma il piacere di portare questo disco fuori suonarlo in giro per festival in tutta Europa insomma poi ci dobbiamo risentire assolutamente che ti devo dire come è andata e ovviamente invitiamo i nostri amici che ci stanno seguendo a seguire le pagine dei Recchiabili in modo da seguirci perché noi faremo una specie di diretta data per data e aggiorneremo sempre su quello che facciamo assolutamente e l'altra cosa che volevo dire è che dicevi bene il disco è prodotto dall'etichetta ZDB ed è realizzato con il contributo del nuovo Imai questo è importante anche da segnalare rispetto a come dire a realtà che sostengono come dire la musica indipendente e la vostra è una meravigliosa musica indipendente orgogliosamente indipendente e coraggiosa tra l'altro ti segnalo anche in diretta mi arrivano dei messaggi da alcuni nostri ascoltatori e spettatori che dicono meraviglioso il cielo e lo spazio dove è calato Dario Mattoni per cui insomma complimenti anche per la location c'è il green screen dietro in realtà c'è un green screen dietro questo meraviglioso luogo da cui Dario Mattoni ci racconta Spaghetti Jive che è un disco dei Rechiabili che vi suggerisco assolutamente di prendere di regalare di ascoltare di ballare e di seguire poi sulle pagine come diceva Dario Mattoni l'attività live dei Rechiabili perché insomma vi assicuro conta quello che conta quello che dico io però in realtà sono testimone di grandi set dal vivo quelli di Dario Mattoni Dario intanto noi siamo in coda prima del prossimo passaggio musicale dei Rechiabili io ti ringrazio moltissimo per averci dedicato il tuo tempo e allora in bocca al lupo davvero grazie a voi grazie ai ascoltatori a te ai Rechiabili speriamo di incontrarci presto magari sotto un palco ma intanto quella che ascoltiamo è Borsa Nuova ciao Dario ciao ciao Grazie a tutti